37esima edizione del Torino Film Festival, sono Angela Prudenzi per Fred Film Radio e saluto qua accanto a me Chiara Malta e Jasmine Trinca. Chiara è la regista di Simple Women e Jasmine è la protagonista ovviamente. Chiara, per quanto è possibile, perché mai raccontare fino in fondo un film, però dacci qualche spunto per entrare nell'atmosfera giusta. Quindi devo dire di cosa parla il film? Sì, in soldoni. Il film parla di tante cose, cerco di dirne alcune. È la storia dell'incontro tra una donna e l'idolo della sua adolescenza, è la storia della creazione di un film e della sua realizzazione. Speriamo. Arriverà a termine o no. E poi anche la storia di un'attrice e di una regista che si incontrano, si scontrano, si conoscono e forse si capiscono. Jasmine, tu sei la regista. Sei ossessionata sin da ragazzina da un'attrice che hai visto in un film di Hal Hartley. Te ne sei innamorata perché in qualche modo ti sei riconosciuta in lei perché lei ha dei problemi che tu stessa hai vissuto. Dico tutto io? No, sei precisissima. E poi la incontri per caso. L'attrice è Elina Lawenson, se l'ho pronunciata bene. E quindi ci incontriamo per caso un giorno a Roma, che sembra un film romantico, ma in effetti il film di Chiara non è solo un film sul cinema, sulla metafora, sull'incantesimo, ma è anche un film d'amore, secondo me. E quindi è come se vedi per strada, diciamo, quello che è stato il fantasma di tutte le tue, dei tuoi sogni di ragazzina. Quindi è tutto un cortocircuito questo film, è molto interessante. Nel senso, io interprete, io attrice, mi trovo a interpretare la regista che poi è, in questo caso, in qualche modo è l'alter ego di Chiara, in qualche modo. Elina Lawenson, grandissima compagna di questo lavoro, interpreta se stessa, ma un se stessa trasfigurato dalla lettura, dalla visione di Chiara. Quindi veramente facevamo fatica a trovare veramente l'ordine. Ma proprio in questo non trovare l'ordine, secondo me il film ha una potenza, perché è un film che porta, come dire, un mistero, un divertimento attorno al gioco del cinema, che poi il cinema, per tutti noi, come sappiamo, non è soltanto poi il cinema, no? È anche un po' la, per tanti versi, la metafora della nostra esistenza. Quindi è veramente interessante. No, ecco, tu hai parlato di storia d'amore e come in ogni storia d'amore che si rispetti non sempre ci siamo al primo sguardo, no? Mi sembra che questo sia il caso. C'è la diffidenza, c'è tutto un investimento, c'è trasferirsi sull'altro, no? C'è essere anche trasformati dallo sguardo di qualcun altro e questo riguarda anche noi come regista-attrice, regista-attrice Lawenson. Quindi, sì, sì, è tutto vero. Chiara, tu hai avuto un'ossessione o era magari questa che sei riuscita a raccontare? Un'ossessione quando? Quando ero adolescente? Sì, sì, verso qualche... o un film o un... No, io non ero... Allora, Federica non è... io non sono stata ciò che Federica è stata adolescente, se questa è la domanda, quindi l'ho inventata l'adolescenza del personaggio. All'Artley io non lo conoscevo all'età in cui Federica lo conosceva, che è il regista del film interpretato da Lina Lawenson, che Federica corre a vedere quotidianamente. quindi no, non avevo un'ossessione cinematografica, ma del resto io credo che neanche Federica l'avesse, perché non sono sicura che lei fosse una cinefila. Lei andava al cinema per vedere un po' se stessa, ora non so se posso entrare troppo nel dettaglio se svelo delle cose degli spettatori, però era un personaggio che riscattava una malattia, perché era esposto su grande schermo, perché era un'attrice americana, perché era qualcosa di molto più interessante della sua vita e della sua malattia, ecco, che magari non interessava a nessuno. L'altra cosa che volevo dire prima è che è chiaro che nel rapporto tra lo spettatore e lo schermo c'è qualcosa di un po' univoco, e quindi quando poi uno incontra la persona ci deve essere uno scambio, è più complicato, è più semplice il rapporto con un personaggio quando uno è spettatore, perché è un rapporto univoco, invece lei ne scopre un altro che è quello con la persona, è un po' più complicato. Il film è anche farcito di ironia, insomma, perché le situazioni sono talmente bizzarre che è difficile non riderne. Noi volevamo anche alleggerire un po' tutti questi concetti che potevano un po' generare una carcassa cerebrale, intellettuale, che poi schiacciava definitivamente gli attori, ecco. L'ironia era sì un po' per stemperare l'intensità di certe affermazioni, di certe riflessioni che non sempre trovano una risposta nel film La Cerca, cioè un po' la questione dell'identità di cosa siamo fatti, che cosa proiettiamo sull'altro, quanto è vero quello che siamo, quanto diamo a vedere all'altro, qual è il nostro io più autentico. È un film, quindi, sull'identità di una ragazza che si costruisce attraverso anche il rapporto con questa attrice, il rapporto di Fanna, Fanna e Idolo, e poi l'identità di questo film un po' strambo che alla fine riesce a fare e che però, insomma, avrà diritto d'esistenza anche lui. Per chiudere, come ti sei trovata nei panni della regista, così, per solleticare? Beh, per fortuna lì poi erano dei panni protetti, nel senso che era tutto un abbeverarmi qui alla fonte della Malta ed era anche molto divertente perché essendo io, insomma, da qualche annetto attrice, questi registi che in qualche modo che noi amiamo, che a tratti mal sopportiamo, no? Ve la racconto sinceramente perché c'è talmente una condivisione di Budella e anche di altro, insomma, che in qualche modo ribaltare quel rapporto di forza, cioè avere da un certo punto, avere la possibilità di possedere lo sguardo sulle cose. Ecco, questo mi ha fatto molto ridere, mi ha fatto molto ridere la dinamica anche Sado Maso tra regista e attore, perché se non si ride di questo ormai è la nostra età, anche se no. Bene, allora, sulla pratica Sado Maso saluto a Jasmine Trinchi. No, che piano, eh, noi ho torturato. E questo è Fred, Festival Insider. Grazie.